L'abbiamo visto soprattutto in questi giorni dove la siccità si è fatta sentire un po' in tutto il paese. All'interno dei quattro distretti le aziende agricole che utilizzano l'acqua appunto della diga di Montedoglio sono riuscite a portare avanti le produzioni e non hanno avuto problematiche particolari. È la diga di Montedoglio a salvare una fetta di Toscana dalla siccità. A maggio, nell'invaso che si trova nella Valtiberina Aretina, erano presenti 70 milioni di metri cubi di acqua. Ad oggi ce ne sono 58,5. Se dovessero continuare alte temperature e assenza di pioggia, conferma l'ente irriguo Umbro Toscano che gestisce l'invaso, potremmo arrivare al 15 settembre, giorno in cui si chiuderà il periodo irriguo, a circa 30 milioni di metri cubi che comunque garantiscono i fabbisogni idro, potabili ed ambientali. A confermare che Montedoglio è e sarà una grande risorsa in virtù soprattutto dei cambiamenti climatici è la presidente del Consorzio Bonifica 2 Alto Valdarno che sta lavorando per portare l'acqua di Montedoglio nei territori che ancora non ne possono beneficiare. Diverse coltivazioni che fino a oggi non avevano bisogno di acqua, anzi, pensare dieci anni fa di irrigare la vite o l'olivo era incredibile. Oggi invece gli imprenditori ci chiedono la disponibilità dell'acqua anche per queste coltivazioni qui. Quindi è proprio cambiato il clima. Proprio per questo anche la settimana scorsa siamo stati all'Assemblea Nazionale di Ambi Nazionale insieme ai ministri. C'era anche l'assessore Saccardi, quindi anche la regione toscana, ben rappresentata in questa assemblea. E lì abbiamo detto che dobbiamo smettere di pensare di intervenire in emergenza come purtroppo cerchiamo di fare in questo momento, anche perché in emergenza queste cose non si fanno perché sono investimenti importanti che hanno bisogno di tempistiche anche importanti sia per fare le progettazioni sia per avere le autorizzazioni necessarie e poi c'è bisogno di risorse, di risorse vere, anche notevoli, per poter poi realizzare queste opere. In questo momento le ruspe sono in azione nel distretto 8 di Castiglion Fiorentino che presto potrà beneficiare dell'acqua di Montedoglio. Altri distretti invece sono in fase di progettazione.